La palla mano è uno sport che può definirsi insito nel DNA umano. Tutti i bambini infatti non appena sono in grado di camminare, corrono, saltano e lanciano la palla, ossia praticano istintivamente le basi atletiche di questa disciplina. Le sue origini effettive perciò si perdono nella storia dei tempi. Nell'antica Roma, ad esempio, esisteva l'arpastum, un gioco utilizzato dai legionari come addestramento alla guerra. Il famoso mosaico di Piazza Armerine in Sicilia mostra donne in bichini del III secolo d.C. giocare lanciandosi una palla. L'arpastum, giocato dai legionari romani, viene assorbito e utilizzato anche dai guerrieri germanici, trasformandosi da addestramento ad attività ludica e rimanendo vivo per secoli nella cultura tedesca. Fu poi proprio in Germania, alla fine dell'Ottocento, che vennero introdotte le prime regole di gioco, tra i pionieri di questo sport troviamo Tal Heiser, che chiamò questo sport Torball, ossia palla-porta, diventando handball qualche anno dopo grazie a Karl Schellenz. Nel 1936 è presente all'undicesima edizione dei giochi olimpici di Berlino come sport dimostrativo, mentre entrerà a far parte ufficialmente del programma olimpico solo nel 1972 nell'edizione di Monaco. Al tempo la pallamano era giocata da 11 giocatori e il campo era quello da calcio. Questa configurazione resterà invariata sino agli anni 60. Proprio in quegli anni, per sopperire ai problemi climatici del nord Europa, prenderà piede il gioco della pallamano al coperto, quindi non più in 11 giocatori, ma 7 e su campi più piccoli. Nasce in quel momento la pallamano moderna, che si diffonderà velocemente in tutto il mondo. Sempre in quegli anni nasce in Italia la federazione italiana gioco handball. È il 1969. Otios incontra i direttori tecnici delle nazionali italiane maschile e femminile Riccardo Trillini e Giuseppe Tedesco per farsi raccontare il mondo della pallamano del nuovo millennio. Buongiorno, mi chiamo Riccardo Trillini e sono il direttore tecnico della federazione italiana gioco handball. Sono stato sempre allenatore professionista e in questo momento da circa sei anni mi occupo delle questioni inerenti alla federazione e a tutte le squadre nazionali, allenando in prima battuta la nazionale senior maschile. Mi chiamo Beppe Tedesco, sono attualmente il direttore tecnico delle squadre nazionali femminili di pallamano, allenatore della nazionale senior. Ho una lunga storia di presenza in panchina soprattutto nel settore maschile dove ho allenato tanti anni a Bologna con risultati abbastanza buoni perché siamo una delle poche squadre che si è arrivato nelle semifinali delle coppie europee. Ho allenato per tanto tempo anche le squadre nazionali giovenili italiane di pallamano grazie alla responsabilità che mi sono toffiato dalla federazione. Abbiamo colto un bellissimo successo nelle championship under 18 in Georgia del 2018 e adesso sono ad allenare con mia grande fortuna la nazionale senior femminile e sono onorato di questo incarico. Ma diciamo così che il cambiamento che c'è stato soprattutto in Italia, parliamo di Italia, si può condurre agli ultimi vent'anni perché chiaramente sono quelli che hanno caratterizzato il più grande cambiamento. All'inizio avevamo il periodo delle squadre dei grandi professionisti, si poteva vivere di pallamano in tutte le squadre, comunque c'erano dei giocatori messi in condizione di allenarsi anche più volte al giorno. Poi c'è stato il periodo della crisi economica che ha portato a una divisione del girone di Serie A in tre gironi e questo ha ridotto moltissimo il livello tecnico portando un po' a uno scadimento del livello tecnico. Al periodo attuale, dal momento in cui si è ristabilita una Serie A unica nel territorio italiano, questo ha portato a una concentrazione dei migliori giocatori e ora si sta un po' riprendendo il livello che c'era alcuni venti anni fa, diciamo così. Nella mia opinione il grande cambiamento, il maggior cambiamento che è avvenuto in questi anni della pallamano e che si è andato verso uno sport molto più spettacolare. La ricerca della spettacolarità è stata diciamo il fil rouge di questa evoluzione della pallamano. Prima la pallamano negli anni 80 era uno sport diciamo molto più simile al rugby, molto più con la forza che veniva fuori in tutti i suoi tratti anche nella violenza in certe situazioni. Invece chiaramente la federazione internazionale ha spinto perché questo sport che è meraviglioso da vedere e da godere, fosse indirizzato verso la parte spettacolo, verso il fatto che si può passare da una parata incredibile a un gol in due secondi. Questa è una grande forza della pallamano ed è stata sicuramente quello che ha premiato anche poi la crescita vertiginosa degli audience divisivi e delle presenze nei palazzetti. Chiaramente è cambiato tanto a livello tattico e direi che questi cambiamenti seguono delle tendenze. Seguono tendenze di grandi nazionali o di grandi club che vincono appunto il mondiale europeo e gli olimpiadi o per quanto riguarda i club una Champions League. Questo provoca una tendenza per cui se quelle di Fè e soprattutto il cambiamento lo abbiamo nella fase difensiva, la cosa più importante perché poi l'attacco si adegua anche a questo cambiamento delle difese. Direi che si è appunto, ha seguito una certa tendenza rispetto a queste squadre. Oggi però rispetto al passato il più grande cambiamento è stato l'uso del gioco veloce. Prima quasi si camminava, le squadre erano formate da sette giocatori, si potevano conoscere tutti i nomi dei titolari, diciamo così, come una volta si faceva negli undici del calcio. Questo gioco veloce ha cambiato tantissimo la pallamano negli ultimi periodi e ha anche incrementato tantissimo il numero dei giocatori nel roster. Per cui mentre prima si pensava solo ai titolari, oggi si ha una possibilità di rendere partecipi più giocatori fino a 14-16. Direi che il gioco veloce è stata la più grande strategia che ha cambiato la pallamano nel mondo. La strategia del gioco è cambiata anche quella conseguentemente a queste scelte della federazione internazionale. Innanzitutto si è posto l'accento sulla ripresa veloce del gioco. Prima questa ripresa del gioco veniva come nel calcio, cioè l'arbitro fischiava tutta la squadra che aveva appena segnato doveva andare dietro la linea di mezzo campo, di centro campo e a quel punto si poteva ripartire. Già da tanto tempo, ma adesso poi è stato esasperato, proprio a partire dal giugno 2022, il concetto che appena si subisce il gol, la palla una volta che viene rimessa nell'area centrale può ripartire il gioco immediatamente infischiandosi nella presenza degli avversari o meno che fossero rimasti attardati. Prima di tutto questa quindi è una scelta che ha premiato l'esigenza di velocizzare il gioco o di non dare un attimo di respiro. Poi ci sono anche altre regole che hanno modificato tantissimo e una di queste è l'introduzione del passivo avvenuta tanto tempo fa, fino adesso a limitare il numero dei passaggi nel passivo una volta che l'arbitro ha segnalato il passivo. Prima si poteva, diciamo così, avere un possesso di palla importante senza essere pericolosi. Le partite erano abbastanza noiose, nonostante anche il punteggio era un pochettino più basso, quindi la partita era sempre vera, si stava sempre in gioco. Con l'utilizzo del passivo bisogna essere pericolosi e non si può condurre e avere questo possesso di palla e oggi la limitazione del numero di passaggi a quattro fa sì che ci siano strategie diverse nell'impostazione dell'attacco in maniera da non finire sotto passivo e quindi questi due tipi di regole hanno influenzato tanto nel gioco. In effetti il gioco passivo è quella che può essere la ricerca di un gioco che fa passare il tempo. Nella palla a mano, al contrario del basket, non c'è un limite di secondi per giocare la palla in attacco, ma la coppia arbitrale prima totalmente a sua discrezionalità poteva indicare che era in corso un titolativo di gioco passivo e quindi poi fischiare eventualmente la paglia di palla da parte dell'attacco. In realtà adesso dopo il segnale di avvertimento della coppia arbitrale che ha ravvisato un intento diciamo dilatorio dell'idea del gioco della squadra dà un segnale, cioè alza la mano e in quattro passaggi la squadra in possesso della palla deve andare a effettuare il tiro. Quali sono gli aspetti fisici e mentali? Sono per me riconducibili all'aspetto fisico, l'esplosività. Una volta il giocatore di palla a mano doveva essere anche antropometricamente ben strutturato, ancora è così, ma non in tutti i ruoli e questo sta cambiando grazie anche a un'interpretazione degli arbitri diversa, dove si tutela molto di più il gioco rispetto alla lotta, alla violenza diciamo così del gioco, mentre quindi la parte della forza esplosiva è determinante. È un gioco molto veloce dove la potenza la fa da padrona. Da un punto di vista mentale credo che la capacità di sapersi concentrare sia il fattore principale unita a una dote caratteriale che è quella del coraggio. Io vorrei dire che una differenza sicuramente esiste tra la palla a mano maschile e la palla a mano femminile, non fosse altro per il gradiente di forza che i due generi possono esprimere in campo. Per quanto mi riguarda la mia esperienza mi dice che ci sono differenze, ma non sono certamente tutte a favore della parte maschile. credo che ci sia una differenza che le ragazze e le donne hanno più capacità di stare concentrate perché devono assolutamente sviluppare delle attenzioni particolari per poter giocare ad altissimo livello e hanno questa capacità di stare sul pezzo forse un po' più degli uomini che tendono a risolverlo con qualche giocata di forza. Però quello che io vorrei far rilevare soprattutto per noi allenatori è che è molto importante il livello mentale delle giocatrici o dei giocatori al di là del genere a cui appartengono. Ci sono atleti e atlete che hanno molta più capacità di comprendere il gioco e questo avvantaggia molto l'allenatore o chiunque possa avere a disposizione delle persone intelligenti tatticamente in grado di capire il gioco. Secondo me al di là della differenza di genere questa è la cosa che contraddistingue la grande giocatrice o i grandi giocatori da quelli che sono normali giocatrici o normali giocatori. Le cose che contraddistinguono una squadra vincente da una squadra che vince un po' di meno sicuramente non è il singolo giocatore perché questo è uno sport di squadra e difficilmente un singolo giocatore può vincere da solo. E quanta coesione riescono ad esprimere sul campo, quanto credono nel gioco che collettivamente possono fare, quanto riescono a sacrificare loro ambizioni personali in funzione del gioco e del giocatore che deve metterle in atto perché in tante partite c'è un giocatore che può far saltare il meccanismo difensivo della squadra avversaria oppure può mettere in crisi il sistema offensivo della squadra avversaria concedendogli qualche possibilità di esprimersi in più rispetto agli altri. Ecco, questa capacità di stare dentro le linee del gioco e cedere un po' di protagonismo individuale agli altri secondo me è quello che definisce una squadra vincente rispetto a una squadra che magari gioca bene ma che non riesce a portare a casa tanti successi. La capacità di stare nel gruppo e di agevolare la performance del gruppo. Grazie a tutti.